Ci avevano raccontato che stavamo uscendo dalla crisi, sul territorio di Bari per esempio nel settore metallo-meccanico gli ultimi investimenti importanti, i nuovi investimenti sono stati la Getra e la Bosch tra il 95 e il 96. Non abbiamo neanche quasi soldi più per venire in azienda a fare presidio perché abbiamo soldi per mettere la benzina. Anche in Puglia ed anche nella zona industriale di Bari purtroppo registriamo gli effetti della crisi. Non vi racconteremo le solite storie, non vi faremo vedere le solite cose, vi daremo un altro punto di vista. Grazie per la visione!